Sono Federico, lavoro per uno studio di ingegneria nel nord Italia e dopo anni di utilizzo di droni e di fotogrammetria aerea ho scelto di frequentare un corso del topografo volante dove ho imparato, nonostante un'esperienza con diversi lavori, ho imparato tante cose nuove. Una scuola che raccomando e consiglio, soprattutto per l'assistenza che si può ricevere nella modellazione dei programmi anche in elaborazione da casa a distanza, quindi più che consigliata. Grazie a tutti.